ciao a tutti e a tutte benvenuti e bentornati nel mio canale allora oggi video svuota la spesa penny penny market siamo appena tornati da penny adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo preso abbia abbiamo preso al succo alla bicocca anche se l'abbiamo già aperto da un litro succo acce patatine plastiche poi cappelletti alla carne da fare in brodo col sugo chicca di patate quindi gnocchetti senza latte sempre uova due confezioni una confezione di pamboletto bianco poi questo questa preparazione base di formaggio fresco con pepe da provare due coppette d'essert una è questa e l'altra dovrebbe essere qui questa è la seconda poi abbiamo preso misto perso fritto congelato su gelato succo alla pesca succo alla pera due coppette d'esserti e poi flausi al latte quindi flausi al latte due confezioni di amica chip snack da un euro luna amica chip amica snack gustose patatine tanta buona frutta contiene patatine fritte bevanda nalcolica la pesca e basta credo ok queste cose qui più stelle di suino due scatolette due scatolette di patè per il cane una con manzo e una con ponno carne misto di bovino adulto scottone fettine sottili difesa di tacchino un'altra confezione da due di giusta però queste pollo tacchino e suino confezione formato convenienza 4 buste di mozzarella poi stracchino confezione doppia petto di pollo intero due confezioni di cotolette di pollo e tacchino una confezione di spinacine gran croccanti cotolette cotte di pollo con spinaci in foglia questo pacchino è finito e poi abbiamo preso una due tre quattro cinque sei sette otto nove nove queste lattine di firebird che poi è una si chiama una bevanda al sapore di frutti di tutti i frutti queste qui e poi si mi ero dimenticata di dirvi che al penne abbiamo preso anche una una cosa di base una confezione di baguette e pacchino pacco doppio di assorbenti linee sul stra 28 conali e poi in omaggio in omaggio subito in omaggio due linee se pacchino stavo dicendo che siamo passati in un negozio di frutta e verdura a 99 centesimi vi faccio vedere che cosa abbiamo preso abbiamo preso le uova abbiamo preso le uova abbiamo preso le uova poi per 99 centesimi l'uno abbiamo preso le uova tortellini con prosciutto crudo tortellini alla carne e tortellini con ricotta e spinaci per due tassone poi abbiamo preso come si chiama non mi ricordo come si chiama questa questa insalata qui melone melone parmigiano o qualcosa del genere le rimettiamo qua scambi che non cadono zucchine abbiamo preso 4 4 no 5 4 5 zucchine poi abbiamo preso i finocchi e poi in questa confezione ci sono pomodori e pelle e pomodorini poi abbiamo preso un po' di frutta quindi cetrioli aspetta che cetrioli questi qua già confezionati singolarmente abbiamo preso kiwi arance e banane si e niente questo è tutto la spesa frutta e verdura spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto spollicciate se vi va iscrivetevi al canale noi ci diamo al prossimo video ciao